Il Comune di Teramo pubblica il nuovo avviso per i buoni spesa rivolto a persone economicamente svantaggiate. E il secondo dopo quello di dicembre 2020, quando sono stati erogati 98.400 euro a 331 cittadini in fascia 1, cioè in cassa integrazione o che avevano subito gravi perdite a causa della pandemia. Sempre a dicembre sono stati inoltre attribuiti 114.000 euro a 398 persone in fascia 2, cioè il cui reddito di cittadinanza o pensione sociale non superava le 800 euro. Per questa seconda tranche restano da assegnare 98.000 euro. Riassegnerete dei nuovi buoni spesa a chi e come si farà per accedere? Sì, è il proseguio dei buoni spesa che abbiamo assegnato nel mese di dicembre. La platea è sempre quella indicata nell'avviso precedente, ossia una misura 1 per tutte le persone che si trovano in cassa integrazione, in Naspio, in CIGS, proprio per causa del Covid, soprattutto a seguito della zona arancione. Quindi faccio sempre riferimento ai baristi, ai dipendenti dei ristoranti, oppure chi ha avuto l'attività chiusa per il Covid o ha avuto un decremento del suo guadagno a causa del Covid. Perché faccio l'esempio, un parrucchiere che attualmente può solamente accogliere per appuntamento è normale che ha avuto un decremento del suo guadagno. La misura 2, invece, è sempre per tutte quelle persone che invece vivono una condizione strutturale di disagio, quindi che percepiscono reddito di cittadinanza oppure pensioni sociali e situazioni similari. Vorrei sottolineare un tema. Chi ha fatto la domanda nel mese di dicembre non può assolutamente riproporla, perché diamo priorità a tutte quelle persone che magari si sono trovate in questo periodo in condizioni economiche svantaggiate a causa del Covid. Come si fa la domanda? La domanda, lo schema di domanda è uguale a quello del precedente avviso, quindi viene compilato in maniera cartacea, viene scaricata dal sito del Comune, viene protocollato oppure inviato attraverso la PEC. Naturalmente, anche questa volta abbiamo previsto un punto di accoglienza presso il sociale dove gli assistenti sociali aiutano le persone a compilarla.